Oggi è una bellissima giornata in Regione Calabria, abbiamo anche ospitato 257-58 persone, ragazzi che hanno partecipato ai concorsi per il potenziamento dei centri per l'impiego e giù stanno procedendo alla firma dei contratti perché queste persone hanno superato i concorsi sia dei profili C che dei profili D e quindi oggi è una bellissima giornata, 259 unità che entrano in Regione Calabria andranno a lavorare al Dipartimento di Lavoro, quindi nei centri per l'impiego. Si conclude in parte un pezzo dell'attività che è stata iniziata a dicembre 21 all'indomani dell'insediamento della Giunta, oggi dopo un anno e tre mesi si chiude la prima parte di questa attività con queste 250 assunzioni, verrà poi completata con altre 279 assunzioni il cui concorso si esploderà tra fine aprile e metà maggio, ulteriori 31 unità sono quelle delle persone che entreranno in Regione una volta superato il concorso in relazione alla legge 68, quindi persone con disabilità o comunque iscritte alla legge 68. Questo concorso con questi due concorsi che avverranno ad aprile e a maggio si conclude tutta l'attività concorsuale che è stata predisposta a dicembre del 2021, quindi è un importante passaggio quello di oggi, sarà un importantissimo risultato quello alla fine del mese di maggio e poi avremo anche il concorso dei 113 persone messo il concorso in profilo D a tempo indeterminato, questa volta non per i centri per l'impiego ma per la Regione Calabria.